il nostro Tg Sport cari amici di Telemolise buon Santo Stefano a tutti in apertura parliamo del campionato di serie D fermo il torneo a diserni alle feste natalizie non hanno bloccato il lavoro di Dino Petrangelo il direttore sportivo annuncia che il nuovo anno potrebbe portare un nuovo allenatore e finalmente anche il nuovo organigramma societario in pol per la panchina ci sono Roberto Carannante e Francesco Specchia alla ripresa del campionato trasferta a Sulmona riprendono domani gli allenamenti in riba all'Adriatico il centrocampista Giuseppe Todino svolgerà il primo allenamento con il termoli mister Giacomarro concederà il rompete le righe per festeggiare il nuovo anno il 5 gennaio si torna in campo per la prima di ritorno a macerata a proposito della squadra termolese Manzilli Damiano Manzillo a mio avviso sono dei migliori giocatori del termoli giocare ed incontrare squadre come il Boiano ultimo in classifica con tanti golle al passivo certamente allenta un po' la tensione ma questo purtroppo non deve succedere perché il termoli penso che per qualche minuto ha rivisto gli incubi un po' di disegno beh sì le partite bisogna giocarle bisogna dimostrare sul campo il proprio valore quindi bisogna sottovalutare l'avversario e questa è una delle di quelle partite che che insegna tanto ecco tre punti importantissimi comunque per la classifica un momento un po' particolare della stagione ma bisogna insistere fino alla fine perché mi avviso il termoli a tutti i numeri per far sì 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 noi abbiamo come obiettivo quello di dar fastidio a questa Ancona che è una corazzata e di stare lì il più possibile sparare sperando in un loro passo falso dobbiamo solo giocare domenica per domenica e cercare di rosicchiare il possibile da questa squadra che è una grande squadra noi noi bisogna stare lì e stare sempre sul pezzo ecco arriva la festività del Natale del Capodanno quindi ci sarà la sosta buon per lavorare ma un'occasione anche per fare gli auguri a tutti gli sportivi assolutamente sì con l'occasione di fare gli auguri a tutti gli sportivi del Molise e appunto cercare di sfruttare questa sosta per lavorare perché io sono nuovo in questo gruppo e ho bisogno di lavorare ancora per assorbire al meglio gli schemi di mister Giacomaro ad Agnone l'arrivo di Vittorio Esposito non ha chiuso il mercato i prossimi giorni e o il nuovo anno potrebbero portare qualche nuovo innesto intanto ascoltiamo Troccoli anche lui tra le nuove entri dei Granata Troccoli una buona partita da parte tua un risultato importante per l'Agnone che vi proietta per il 2014 in maniera più serena beh sì sono contento sia per la prestazione mia ma soprattutto per quella della squadra e dei miei compagni che non hanno mollato un centimetro è questo lo spirito che dobbiamo avere comunque penso e spero che nel 2014 sia un anno pieno di soddisfazioni per noi e per la squadra perché col duro lavoro che con cui in cui ci impegniamo ogni giorno penso che ne abbiamo bisogno di questi risultati. Ecco Troccoli ecco che ambienti hai trovato qui a Agnone? Beh sono stato sono stato accolto in maniera esemplare penso da tutti a partire dallo staff ai compagni e sono stati tutti anche l'ambiente dei tifosi e della gente che viene a vedere la partita tutto molto caloroso sono contento sto benissimo qui mi trovo molto bene. Il Boiano domani riprenderà regolarmente gli allenamenti a Foggia non seguirà i suoi ragazzi mister Giglio che già domenica non ha diretto la squadra contro il Termole alla base come dichiarato dal tecnico Campobassano anche a domenica a sport delle incomprensioni tecniche tra il presidente di Conza e il direttore sportivo Caggiano. Campionato d'eccellenza oggi ultimo giorno di riposo per il Campobasso da domani la squadra si ritroverà nel capoluogo per riprendere gli allenamenti chiuso l'anno è tempo di tracciare un primo bilancio su questa stagione tra i protagonisti per il rosso blu il giovane portiere del Campobasso Nunziata. Nunziata sedicesima vittoria consecutiva a proposito del calcio di rigore l'avevi sfiorata purtroppo la palla dopo essere carabolata sul mio braccio è andata sul palo e poi in rete è stata un po' di sfortuna in quella situazione. Un tiro a mezza altezza comunque per il resto non si è stato granché impegnato questo Campobasso è comunque più che una macchina da gol da tante occasioni da gol quindi è fuori discussione che riesca a vincere le partite. Abbiamo dei grandi attaccanti che sono loro che le procurano queste occasioni ed è normale che ogni tanto si sbagli nei gol però facciamo tre gol a partita quindi è normale che ogni tanto qualche palla qualche attaccante si è sfortunato e la palla non entri però stiamo facendo quasi sempre gol la difesa subisce pochissimo a parte due rigori e quindi siamo soddisfattissimi così. A tuo avviso è davvero possibile fare l'unplane di vittorie 30 su 30? Ma difficilissimo il problema lo sai quale non è tanto delle vittorie e che capiterà magari la partita dove saremo sfortunati due o tre circostanze sfortunate forse potremmo non vincere però noi pensiamo partita per partita e fino adesso è andata tutto bene. Possiamo dire che da quando sei stato chiamato in causa sei stato contro il Fornelli poco lavoro per te da quel momento in avanti? Sì abbiamo una grande difesa abbiamo Tonino Minadeo ha giocato l'anno scorso in C2 ad alti livelli e abbiamo altri difensori come Scampa e Scudieri veramente una grande difesa infatti niente da dire su di loro veramente bene questa. Su Telemolise 2 canale 12 oggi andrà in onda la telecronaca tra Roseto e Campobasso l'inizio è previsto per le ore 17 tempo di recuperare l'energia anche per il Fornelli bianco verdi che puntano tutto sulla Coppa Italia in programma il 2 febbraio intanto il campionato riprenderà il 12 con la difficile trasferta a Sesto Campano a proposito della squadra Marino. Pasquale Marino avete portato anche altri tre punti a casa servivano? Sì erano importantissimi prima della sosta perché non è stata una partita facile come avete visto siamo arrivati un po stanchi l'importante erano i tre punti siamo riusciti a sbloccarla nel secondo tempo e tutto secondo piano ora stacchiamo un po' la spina ricarichiamo le pile per la seconda parte della stagione. Fino al tretesimo del secondo tempo avete trovato un vero e proprio muro il portiere della Cliternina? Sì è un classe 96 un bel elemento però siamo stati bravi perché comunque loro si sono chiusi qui nella loro nella loro area di rigore comunque siamo stati bravi nel secondo tempo a sbloccare il risultato. Quindi adesso sosta Natalizia e prepararsi per la finale imminente contro il Campobasso? Sì infatti tra Natale e Capodanno ci ritroviamo per fare diciamo un richiamo di preparazione per poi prepararci al meglio per la seconda parte della stagione. Sarebbe importante fare quella vittoria portare la coppa a casa è importante. Sì era importante arrivarci era un nostro obiettivo ora è tutto nelle nostre mani conosciamo il loro la loro forza però possiamo provarci. Calcio a cinque triangolari di beneficenza sabato presso la palestra di Frosolone in campo per recuperare fondi da donare all'associazione cielo e terra di vento centro di urno per disabile il sant'elena sannita acqua molissia il pietra cupa il san pietro in valle la manifestazione inizierà alle 16 ed il costo simbolico del biglietto è di due euro per il campionato di promozione il real termoli ha perso terreno dalla vetta a causa del ruolino di marcia negativo in trasferta ne abbiamo parlato con impicciatore. Andrea impicciatore insomma una una sconfitta che sicuramente brucia però davvero buona soprattutto la tua prestazione insomma quella della squadra che forse ha mancato un po' di concentrazione in qualche frazione di gioco. Sì sono contento per la prestazione penso che comunque abbiamo fatto una buona partita siamo venuti qui a Riccia a giocarcela e purtroppo il risultato è amaro finita 2 a 1 però speriamo di rifarci subito dalla prossima partita. Sicuramente il gruppo è unito avete dato dimostrazione di avere davvero molta sintonia in campo quale secondo te potrà essere il futuro del real term? Ma il futuro noi speriamo sempre in bene ovviamente speriamo di almeno quest'anno centrare pre off e ce la andiamo a giocare. Le tue insomma tu sei molto giovane le tue prospettive personali per continuare a giocare un buon calcio? Sì spero sicuramente di continuare così di fare più gol possibili e speriamo di di far bene ci dobbiamo dar dentro con l'allenamento e andare su ogni campo a fare punti. Il Civitanova è chiuso l'anno al penultimo posto ai nostri microfoni il tecnico Di Rosa. Siamo con Antonio Di Rosa mister del Civitanova mister vittoria che sfuma dall'ultimo fa veramente male. Ma fa male sì dal punto di vista dell'impegno dell'agonismo sì fa male però onestamente il pareggio è giusto. Noi abbiamo iniziato subito bene con un'occasione di Paolo della posta poi loro hanno avuto un'altra occasione il pallino del gioco ce l'avevano loro però noi siamo ripartiti bene quindi è giusto il pareggio. Primo tempo brutto possiamo dire da vedere partita giocata di più al centrocampo. Pesano tempo siete riusciti a sbloccare la partita su un bellissima azione poi però non si può far girare i mini chilo. Guarda per quanto riguarda il primo tempo io conosco mister Renzo lui è bravissimo quindi io voglio fare non solo i complimenti a lui ma soprattutto ai miei ragazzi perché avevamo impostato la partita così sapendo come giocavano loro e sono stati bravissimi a tamponare quasi tutti gli spazi. Per quanto riguarda il nostro gol l'avevamo detto poco prima negli spogliatoi che l'unico modo era sbloccare la su palla inattiva ci siamo andati vicino al primo tempo l'abbiamo fatto poi nel secondo io onestamente per quanto riguarda il gol di mini chilo qualche gol l'ho fatto ho fatto qualche gol anche in eccellenza io non mi sento di dare colpa ai miei difensori perché lui è stato bravissimo prima che gli arrivasse la palla già sapeva quello che doveva fare è stato un fulmine la messa all'angolino. Tutti Civitanova ha fatto un'ottima partita perché qui pareggio su questo campo non era facile però una menzione speciale bisogna farla a Ciannillo che veramente ha fatto delle ottime parate. Ciannillo secondo me allenato non è per questa categoria un portiere almeno da eccellenza è bravissimo io lo vedo in settimana si allena noi ci alleniamo due giorni a settimana il che già è poco ma lui si allena sempre quasi tutti i giorni ha ricominciato da poco ad allenarsi niente da dire qualità le ha. Possiamo dire che adesso Felicitanova comincia un'altra minota perché il Treppini ovviamente ha battuto la Marone 1 a 0 ennesima vittare per 1 a 0 avete recuperato un punto proprio sulla squadra di Monte Falcone adesso c'è la posa Natasisa poi c'è subito lo Spinetti partita da vincere. Sì noi il nostro campionato io abbiamo parlato con la società e con i ragazzi nello spogliatore del vinchiaturo domenica scorso lì la nostra svolta doveva essere là partire da fuori casa cominciare a fare un punto alla volta soprattutto combattere su tutti i campi e aspettare lo scontro diretto con lo Spinetti. Ultima situazione mister poi ti faccio andare ti aspetti qualcosa dal mercato ti stanno bene i ragazzi che hai? No va benissimo così guarda io non ho chiesto niente alla società ma devo tra l'altro fargli complimenti perché il presidente Vittorio ma anche gli altri hanno portato un ragazzo straordinario che è Alessio Enrico che veramente è un 94 è venuto Cerniello basta così i ragazzi del posto devono divertirsi e crescere. Si svolgerà dopo domani a Termoli la prima edizione del torneo Natale a canestro riservato ai ragazzi della categoria under 13 oltre alla squadra di casa nonché società organizzatrice dell'evento la Termoli Young parteciperanno anche la BCC Vasto il Cerignola e la Libertà Benevento il programma prevede BCC Vasto Termoli Young palestra ITT e Maiorana alle 9 e 30 a seguire Libertà Benevento Cerignola la fase finale si svolgerà nel pomeriggio al Palas a finale terzo terzo posto palla 2 alle 15 e 30 e finale primo posto palla 2 alle 17 e 30 basket DC regionale il campo basket ha chiuso l'anno con la sconfitta interna con il Chieti otto punti in tredici giornate disputate per la squadra del capoluogo. Umberto Anzini coach del campo basket una sconfitta per chiudere questo 2013 una partita possiamo dire buttata nell'ultimo quarto? Sì volevamo vincere volevamo regalare e regalarci finalmente una 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 vittoria era le nostre a nostra portata forse questo ci ha un poco tradito per forse per l'approccio un po' forse nervoso ha vinto la squadra che ha avuto più lucidità più fiducia in se stesso e a penalizzarci a noi sono state troppe troppe palle perse tante palle perse nonostante tutto siamo riusciti a stare in gara fino a qualche minuto dalla dalla fine poi alcune decisioni frutto di forse di la della voglia di non perdere la partita di mano ci hanno penalizzato con tutti quei tiri liberi comunque diciamo dobbiamo fare un nostro mea culpa e e rimetterci in carreggiata già dall'anno nuovo. Possiamo dire che una bella mano al tiro libero gli hanno gli hanno data le quattro espulsioni che pesano anche peseranno con il nuovo anno due giocatori e tuo allenatore che mancherete nell'anno nella prossima partita probabilmente. Ma io mi auguro di no perché sono espulsioni venute tra l'altro frutto di un'interpetrazione personale che hanno fatto gli arbitri perché a un minuto dalla fine dieci sotto io sono andato a dare gli auguri di Natale con una squadra con la quale siamo abbiamo dei rapporti cordialissimi la partita non era per niente cattiva non è stata mai però gli arbitri hanno voluto dare una interpretazione legata troppo al regolamento per cui mi hanno sanzionato perché ho abbandonato il box per aver salutato la squadra ospite. Mi auguro che questo venga 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 scritto venga interpretato nel migliore modo cercato di spiegare agli arbitri ma anche le altre varie espulsioni non sono state frutte di una cattiveria c'è agonismo c'è stato in campo però massima massima correttezza a volte questo ti penalizza ma non è non è questo non stiamo qui a giudicare l'operato degli arbitri ma dobbiamo sicuramente cercare di migliorare noi e toglierci qualche soddisfazione questo era l'intento nostro di quest'anno un campionato nel quale vogliamo far crescere i nostri ragazzi stiamo avendo attualmente alcune difficoltà finisce il 2013 11 giornate del genere di andata sono state giocate due del genere di ritorno un giudizio complessivo di questo inizio di campionato e un augurio per il ritorno in campo un regalo che vorresti farti per il 2014 ma io sono contento così stiamo affrontando questo campionato credo con lo spirito giusto certo se riuscissimo a vincere la competizione fa sempre piacere vincere vuol dire che dobbiamo lavorare ancora di più dobbiamo migliorare sicuramente non dobbiamo demoralizzarci ecco questo è più un fatto psicologico le tante palle perse dobbiamo di acquistare la serenità perché quello che stiamo facendo è già tanto visto è considerato il il momento particolarissimo che stiamo vivendo che vi sta vivendo lo sport in genere ma anche la palacanestro nel capoluogo è tutto per questa edizione del nostro tg sport buon pomeriggio ciao a tutti i nostri spettatori ciao a tutti i nostri spettatori